sei troppo cute grazie anche tu emilia ti ringrazio comunque fai smr non so come con cosa lo faccio smr devo prendermi bro devo quando mi prenderò il microfono quello farò odio la cosa con la pancia si jacopo è una cosa geneticamente perfetta è anche bella da vedere sei bellissimo e gentile un cuore d'oro grazie fabrizio magari fossero tutti come te che mi capiscono back bop tieni beccati stu back pop bro fra 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 dimmi dimmi l'aila ma come fare a fare le onde con la pancia non lo so un giorno tipo mi faceva male la pancia inizia da far così e mi è venuto ciao bellino sì 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 dai se vuoi ti lascio con i miei anche perché al brocio ma perché non è un video comunque dopo l'estate vina milano e ci becchiamo ma va bene johnson troppi ti lascio a te tieni vieni vieni ti lascio il mio posto no no dai vieni vieni se ne vanno tutti poi ragazzi anche perché c'era al 20 il telefono devo caricare vabbè al 10 sto chiamando va bene va bene ragazzi questo è mio fratello guardate io come francis ma ormai ci riconosco come noi sembra un attore di baywatch ma chi lui fabrizzo chi grazie emilia emilia no aspetta emilia si grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti